A Caltanissetta gli agenti della sezione volanti hanno segnalato all'autorità giudiziaria un cinquantenne sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica. L'uomo prima avrebbe provocato un incidente stradale impattando con un'altra auto, poi avrebbe inveito contro il conducente della stessa vettura. Gli agenti hanno sequestrato per la confisca il mezzo dell'uomo al quale è stata ritirata la patente di guida. Si tratta dell'ennesimo caso in città. Massiccio nel tempo è diventato il numero dei segnalati per guida sotto l'influenza dell'alcol. Un fenomeno che non riguarda solo il capoluogo. Dopo un controllo effettuato dai carabinieri nel territorio di competenza della compagnia nissena, un quarantenne si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e l'elenco dei controlli non finisce qui. I militari dell'arma hanno segnalato all'autorità giudiziaria un ventenne che si è visto ritirare la patente, trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi.